E te li spenderesti mai 50 euro per una pasta burro e parmigiano? Vieni che ti faccio vedere la mia ricetta Caliamo lo spaghetto Sono 160 grammi di spaghetti Iniziamo facendo sciogliere il burro con un po' di acqua di cottura Sta diventando bello liscio e cremoso Una volta che risulterà privo di ogni grumo Aggiungeremo il parmigiano grattugiato Padella sul fuoco, olio e acqua di cottura Il burro adesso è liscio, omogeneo E amalgamiamo il tutto Spaghetto ancora al dente Lo caliamo in padella Per concludere la nostra crema burro e parmigiano Un po' di pepe Questo non può mai mancare Adesso aggiungiamo la crema burro e parmigiano Adesso procediamo con l'impiattamento E poi scopriremo perché vale 50 euro questo spaghetto burro e parmigiano Per rendere ancora più speciale questa meravigliosa preparazione Andiamo ad aggiungere il caviale Questo caviale ha un valore di mercato di 1900 euro al chilo Vedendo la preparazione e la qualità delle materie prime Li spenderesti mai 50 euro per questo fantastico spaghetto? Fammelo sapere nei commenti No, no, qui si gode